buongiorno a tutti da pancopallino oggi ci troviamo a terni e questa è la cattedrale di santa maria assunta dove abbiamo un concerto di tre campane a slancio più due inutilizzate e oggi visto che la festa di san valentino protettore degli innamorati ascolteremo la distesa di seconda e terza alle 11 50 per la messa di mezzogiorno a dopo grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.